Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati da Francesco Siciliani ad una nuova puntata dei Noobs Corner per iOS. In queste puntate noi andiamo a vedere sempre come poter sfruttare al meglio delle cose già presenti nel nostro iPhone, dei trucchetti, insomma dei piccoli tips. Iniziamo subito e andiamo a vedere per questa puntata l'app ProMemoria. Andiamo a scoprire come utilizzare al meglio l'app ProMemoria, dato che molti di voi me l'hanno chiesto. Proviamo ad aggiungere un nuovo elenco di prova. Allora aggiungiamo un nome di titolo, un colore e poi, che possiamo comunque sempre andare a cambiare, poi possiamo scegliere se attivare la condivisione e poi infine possiamo andare ad aggiungere i vari eventi al ProMemoria. Ad esempio adesso scriviamo prova, poi una volta completato basterà cliccare sul pallino accanto per segnarlo come completato. Proviamo anche a scrivere magari prova 2, poi aggiungiamo due eventi insomma per vedere insomma come va. Aggiungiamo prova 2 e vi faccio vedere delle impostazioni speciali che possiamo attivare con il pulsante della I, delle informazioni accanto all'evento. Possiamo scegliere se ricordarcelo in un giorno preciso, se ripetere questo avviso in modo settimanale, giornaliero, mensile, eccetera. Scegliere la data di termine per la ripetizione, quindi quando non ci servirà più. Aggiungere una priorità al nostro evento, cambiargli velocemente l'elenco di ProMemoria, andare ad aggiungere una nota e poi la cosa più importante magari attivare la localizzazione per sfruttare la posizione. Potremmo scegliere di utilizzare la posizione per farci ricordare un evento quando andiamo via da un luogo o quando arriviamo in un determinato luogo. Anche se questo ovviamente può influire sulla batteria perché tiene la localizzazione attiva. Possiamo comunque spostarci sulle varie liste, basterà scorrere in giù e scegliere poi la lista che vorremo. In modo tale da organizzare al meglio i nostri ProMemoria. Ma non solo, perché oltre alle notifiche dei ProMemoria che ci arrivano direttamente quando ne abbiamo bisogno, possiamo anche utilizzare Siri per andare a utilizzare i ProMemoria per raggiungere degli eventi, per farci insomma ricordare qualcosa. Vi faccio vedere le opzioni che abbiamo con Siri, possiamo aggiungere i nostri eventi, farci ricordare determinate cose, comprese anche le posizioni oppure un giorno, un orario, insomma si riesce a capire tutto quello che vogliamo dire. Va bene ragazzi, con questa puntata noi abbiamo terminato e vi do appuntamento ai prossimi video. Da Francesco Siciliani è tutto, a presto! Grazie a tutti!